Riconsegnato da rete ferroviaria italiana al comune di Silvi il sottopasso Marcelli di via Taranto. L'opera pronta da un paio di settimane è rimasta bloccata per questioni burocratiche dell'Enel che non consentivano la fornitura della corrente agli impianti tecnici. I lavori sono stati finanziati per un importo di 500.000 euro dalla regione Abruzzo. Nei prossimi giorni saranno definiti alcuni dettagli ancora da sistemare, ma il sottopasso è già perfettamente agibile. È una struttura indispensabile e fondamentale per la viabilità ordinaria del comune di Silvi. Riapriamo dopo una settimana, abbiamo avuto un po' di problemini con l'Enel per la questione elettrica, però stiamo risolvendo, abbiamo risolto in parte le questioni. Siamo felicissimi, un'opera che questa amministrazione ha voluto fortemente, un contributo della regione Abruzzo e oggi possiamo finalmente ridare uno sbocco, soprattutto alla sicurezza dei mezzi di soccorso sul lato nord di Silvi. Dopo aver storto il naso per i ritardi sulla riapertura, ora i cittadini sperano di aver messo la parola a fine ai pericoli derivanti dalle forti piogge e dagli allagamenti. Questa è una probabilità, quello dell'allagamento, ma è un'opera secondo me fatta bene. Dunque speriamo che non ci siano problematiche in futuro, però considerate anche che stiamo facendo il sovrappasso di emergenza, con una cancellata di emergenza anche vicino alla chiesa Padre Pio. Queste sono le condizioni sicuramente che possono dare alla città più sicurezza e ai mezzi di soccorso garantire l'accesso sul tratto costiero. Poi ci tengo a sottolineare il fatto che comunque questa era un'opera che era prevista da giugno a settembre, siamo riusciti ad anticiparla, non a posticiparla, anche per una questione di responsabilità, e soprattutto dare la possibilità, dopo la metà di luglio, di avere una struttura indispensabile per il territorio di Silvi. Questo è il grande impegno che abbiamo messo in campo e oggi possiamo dire che ci siamo riusciti. Questo accesso anche nell'ottica, se ci sarà questa vostra volontà di poter portare il lungomare a senso unico? La città di Silvi è una città a livello strutturale, della viabilità particolare, dobbiamo cercare di mettere in campo anche col piano urbano e una mobilità sostenibile delle risposte sicuramente al traffico e agli accessi di questo territorio in maniera che tutti possano convivere e avere dei servizi per Silvi.